Un grande motivatore, grazie. Mi raccomando, stendili. Non preoccuparti, farò di tutto per beccarmi questo lavoro così tanto ambito. Allora credi di avere i requisiti? Sai che cos'ho? L'odore della topa di tua moglie. Nessuno ha mai potuto parlarmi in questo modo. Perché avevano tutti la bocca piena della topa di tua moglie. Sei assunto. Cazzo. Hai avuto un rapporto sessuale con una tua collega sopra prodotti alimentari che noi vendiamo al pubblico. La settimana scorsa l'ho trombata con una zucchina. E poi l'ho venduta a una famiglia con quattro bambini piccoli. Ci vuole fegato. A noi occorre fegato. Perciò ti promuovo. Tu hai un sacco di problemi, lo sai?